Il Governo non sembra avere fretta sulla questione esodati, è così? Sembra che il Governo voglia rinviare per l'ennesima volta il testo unificato della proposta di legge di salvaguardie per i cosiddetti esodati. Oltretutto ricordo che il primo testo è a firma Lega Nord, per il quale rispetto alle promesse fatte dal Partito Democratico e da vari esponenti del Governo, invece vengono disattese tutte, in quanto è la terza volta che questo provvedimento non vedrebbe la luce dell'Aula. Noi chiediamo che invece venga affrontato immediatamente il problema, vengono salvaguardiate immediatamente le centinaia di migliaia di persone che sono rimaste o rischiano di rimanere senza alcun tipo di reddito per loro e le loro famiglie e che se questo il PD non vuole farlo si prenda la responsabilità politica di scegliere di continuare a dare i soldi ai clandestini, ai carcerati e non darle invece ai cittadini onesti che sono stati fregati da un accordo spezzato dallo Stato, precisamente dal Ministro Fornero, con i voti del Partito Democratico. Perché continuano a rimandare secondo lei? Continuo a rimandare perché le coperture le trovano sempre per gli ultimi arrivati, ma invece per i nostri cittadini le coperture non ci sono mai, secondo il Governo. Noi invece crediamo che le coperture si possano trovare. Pensiamo che continuino a persistere molti sprechi e molti intermenti sbagliati sul quale il Governo decide di dirottare i soldi dei contribuenti italiani. Ricordo che oggi in Commissione Lavoro e Commissione Finanze è stato votato uno schema di decreto che dà 700 euro al mese per ogni detenuto o ex detenuto assunto dalle imprese e una decontribuzione del 95% sempre per questi soggetti. Dunque, mentre i nostri disoccupati, i nostri esodati non hanno risorse, il Governo, non solamente per i clandestini, ma adesso decide anche di dare risorse ai delinquenti. Quindi il lavoro per i pedofili, per i cittadini onesti invece nulla.